Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno. Sabato 5 maggio, fine settimana di una settimana decisamente sonnacchiosa per i football. Lo sapevamo, è una settimana festiva in Giappone e quindi andava come è andata. La settimana prossima finisce la season, sappiamo già che arriveranno i nuovi contratti mirati, arriverà il nuovo pass, insomma, arriveranno tante cose e speriamo che ci sia anche qualche sorpresa in positivo. Ma su questa cosa della stagione torneremo fra pochissimi secondi. In primis volevo solo segnalare che a distanza di 12 ore dal tweet del Napoli e considerando che ci sono anche 6 ore in avanti del Giappone, quindi quando erano già abbastanza svegli dopo un paio d'ore che il tweet era stato fatto, finalmente è arrivata la condivisione, neanche un tweet nativo, una condivisione dello Scudetto del Napoli. Grandi congratulazioni alla nostra squadra partner SSC Napoli per un bellissimo, uno stupendo titolo del campionato. Insomma, niente di particolare, ripeto, almeno un tweet nativo me lo speravo, discutiamo se farà qualcosa Konami per celebrare lo Scudetto, non lo so, non lo so. Io dico soltanto che se farà qualcosa, minimo se ne parla giovedì 11, minimo, magari anche il giovedì dopo, non credo prima. Ma poi, con Konami non mai dire mai, ricordavo lo scorso anno hanno festeggiato la Conference League della Roma, ma non sempre ha festeggiato gli Scudetti delle squadre. Quindi staremo a vedere, io non mi sbilancio su queste cose, quindi staremo a vedere nelle prossime settimane se accadrà qualcosa o meno. Vedremo, ovviamente sarebbe molto gradita qualche campagna sia per i tifosi napoletani che anche per gli altri, ad esempio l'anno scorso. Ho gradito molto l'evento, diciamo, della Conference League per la Roma, anche se facevano fare un giro soltanto tra tutti i giocatori della Roma, io ovviamente ho pescato uno da 59, mi sembra, mica Zaniolo o Ebram. Va bene, comunque, detto questo, staremo tutto a vedere. Allora, prima parlavo di stagioni e Renan Galvani mi ha un po' scombussolato la vita, perché un suo utente, Beta, gli chiede cosa succederà alla fine della stagione, alla prossima settimana, ci sarà qualcosa di nuovo, sempre lo stesso, dovrebbero solo rilasciare un piccolo aggiornamento e continuare la stagione 4 parte 2 con un nuovo game pass, ma con la mia ragione lì può succedere di tutto. Come la stagione 4 parte 2? Infatti il Football News risponde, so che stanno, ovviamente le altre stagioni sono state annunciate più a lungo, gli aggiornamenti sono arrivati di tanto in tanto, la stagione è continuata con nuove campagne, ma questa stagione è stata annunciata per un mese, non credo che continuerà. e dice Galvani, sarebbe strano visto che tutte le stagioni passate sono durate 2-3 mesi, se era stagione 5 questo sarebbe un mese atipico. Ora, io non so se Renan Galvani ha informazioni da dietro le quinte, ma mai è successo fino a questo momento e può succedere da domani in poi, con Konami mai dire mai, lo dico sempre, però ragazzi, durata stagione 4-13-aprile-2023-11-maggio-2023. Cioè, da qui non se ne esce, cioè, questa è la stagione, poi se fanno stagione 2 parte 2, cioè, ragazzi, questo ne sono certo, non devo chiedere conferma a voi, non si è mai vista una cosa del genere, stagione 4 parte 2. Non lo so, questo tweet di Renan Galvani mi ha un po' destabilizzato, perché a volte ha detto le cose che sembravano lontanissime dal vero, e poi non sempre, per essere chiari, non sempre, ma a volte sì, si sono rivelate reali. Quindi io, per sicurezza, sono anche andato a vedere la stessa pagina in altre lingue, in inglese, e qui lo stesso, a parte scritto in maniera anglosassone, 0-4-13-0-5-11. Per sicurezza, la fonte originaria, quella giapponese, ogni tanto ritorna il mio giapponese estremo, eccolo qui, 0-4-13-0-5-11. Cioè, le date sono quelle, che facciano season 4 bis, io mi auguro davvero, vivamente, di no, perché sarebbe una cosa inguardabile. Cioè, falla durare due mesi, allora la stagione 4, non ha senso stagione 4 parte 2, deve essere la stagione 5, per coerenza essenziale. La stagione dura quello, non mi puoi fare la stagione 4 parte 2. Non lo so, non so se sono supposizioni di Renan Galvani, o se lui da dietro le quinte ha qualcosa saputo, perché ogni tanto le sa. Spero, spero vivamente che Konami, giovedì prossimo, presenti la stagione 5, qualunque cosa essa ci porti. Perché sarebbe davvero triste vedere stagione 4 parte 2. Questa è la mia opinione. Staremo a vedere, anche a me, sin dal primo istante, queste date mi erano sembrate strane. Però ho detto, chissà, forse a maggio vogliono fare qualcosa di particolare, o questa stagione hanno pensato che più di tanto non dovesse durare, perché in effetti develop, design, define, non è che chissà che cosa ci ha portato. Ci ha portato queste abilità aggiuntive, e va bene così, un mese e poi proponi qualcosa di nuovo. Siamo a fine dei campionati, magari si può proporre qualcosa di differente. Insomma, staremo a vedere. Poi, ragazzi, io vorrei parlare un momento del campionato del Dream Team, perché qui si lamentano, giustamente, coloro i quali vorrebbero giocare alle Copp e hanno ragionissimo in pieno. Si lamentano quelli che vorrebbero giocare alla Master League e hanno ragionissimo in pieno, ma anche noi che giochiamo al Dream Team non è che facciamo questi salti di gioia incredibili, entusiasmanti. Cioè, si gioca, si gioca. Lo vedete che in queste ultime settimane ho giocato più del solito, col doppio appuntamento nel campionato. Oggi ricominciamo di nuovo un'altra run. Sono due volte che sfioro la divisione 2 e non la raggiungo per un solo punto. Un solo punto. Va bene, ma si continua. Fino a quando c'è tempo per concludere la fase, che appunto la fase si conclude anche questa giovedì, io ci provo e vediamo che succede. Chi la dura la vince, si dice sostanzialmente. Vediamo se anche per i futbol è così. almeno arrivare in divisione 2, come capita in quasi tutte le mie fasi, e quindi ci riprovo. Detto questo, però, il campionato, ragazzi, al di là del proprio gusto, della propria lignaggio, della propria soddisfazione personale, da lo scorso aprile, cioè non questo aprile 2023, aprile 2022, non ha cambiato nulla nella sua struttura. È sempre uguale. Anche i premi sono sempre uguali. GP e allenamenti ESP e basta. E' oggettivo che, indubbiamente, questi premi inizialmente ci potevano interessare. Adesso valgono molto meno. Ci sono le abilità aggiuntive, ci sono i punti futbol per il rinnovo dei contratti, ci sono tante cose che sono più invitanti. Ma Konami non ha modificato di una virgola i premi. Allora, io dico, cara Konami, ci sono il rinnovo dei contratti con i punti futbol? Sì, e ci sono anche i punti futbol, scusatene, quando ci viene promossi. Non lo vorrei scordare. Però sono pochi. Magari si potrebbe mettere, per ogni fase che uno aumenta, un rinnovo del contratto prima da 10 giorni, poi da 20, da 30, fino a poi se uno arriva in divisione 1, un rinnovo da 60. Sarebbe così allucinante? Magari per ogni divisione raggiunta un'abilità extra aggiuntiva da inserire? Questo per i premi. Ma poi anche nella struttura. Qualcuno diceva, e anche per i premi, perché non rendiamo il campionato a fasi settimanali e a fine di ogni settimana, ogni giovedì, no, a fine di ogni settimana perché l'aggiornamento principale è il giovedì, non mettiamo dei giri gratis per il pool leggende, showtime, big time e compagni andante. Non sarebbe male. Io dico anche, l'ha scritto qualcuno ora, non ricordo il nome, ma tu lo sai che l'hai scritto tu. Perché ad esempio non fare anche giri del pool potendoli aggregare? Magari ogni, non dico ogni settimana, magari ogni fase vinci 20 giri, ti fai 4 fasi, hai 80 giri, adesso sto dicendo dei numeri così, e te li giochi tutti nel pool che ti piacerebbe utilizzare. Questo c'è da dirlo. Sono sempre oggettivo, ragazzi, anche se qualcuno lo pensa. Ho detto, per il rinnovo dei contratti è meglio il football di PES, ma in PES, bisogna dirlo, c'erano degli eventi che come premio ti davano delle leggende e questo è fuori discussione. Ogni tanto il football le regala le leggende, ma con molta più rarità. Nel 2023 non ci ha regalato nessuna leggenda Konami. Quindi, diciamo, se vogliono invitare le persone a giocare al campionato, che dovrebbe essere un po' il cuore pulsante della modalità Dream Team, devono renderlo più interessante. Io, anche da un punto di vista strutturale, va bene che in Divisione 1 il ranking dipenda soltanto dalle partite PvP. Mi sta bene. Ed è giusto perché lì giocano i giocatori più forti, giocano i giocatori pro player o semi pro player, o comunque chi gioca davvero bene e, come dire, si deve creare un ranking. Anche lì sarebbe il caso anche di premarli un po' di più, secondo me, ma questa è un'altra discussione. Ma allora, nelle divisioni sotto, e io, secondo me, anche una parte di quelli che stanno nelle divisioni iniziali sono persone che non giocano con il PvP, perché magari per tradizione, oppure perché vengono sconvolti, diciamo, dal fatto che spesso nel matchmaking vengono anche messi con giocatori molto più in alto di divisioni. Perché non consentirgli di integrare i punti che si fanno con le partite PvP con gli eventi. Se ad esempio ad ogni evento concluso dopo la fase 3 si desse anche un solo punto per la propria divisione e per aiutare, ripeto, non per i divisioni 1, quella è l'elite, quella è una cosa a parte ed è giusto che ci sia solo il PvP. Ma mi va bene anche che la divisione 2 e la divisione 3 sia solo per, solo in PvP. Ma sotto non si potrebbe fare in modo tale di integrare il campionato con gli eventi. Io lo reputo una cosa che renderebbe più facile salire di livello. Non facilissimo, ma comunque aiuterebbe, renderebbe gli eventi più interessanti e non li lascerebbe lì, cioè senza nessun tipo di integrazione fra le due cose e io reputo che sarebbe una cosa interessante anche per modificare un pochino il campionato, non renderlo fino a se stesse. da un anno che giochiamo sempre al campionato PvP, PvP, PvP e basta. Ripeto, io mi diverto, mi piace, poi ho l'obiettivo di divisione 2, voglio arrivare in divisione 2 e gioco. Però, ripeto, magari per chi trova più frustrante ancora le divisioni, soprattutto le più basse, renderebbe più facile, sarebbe un entry level più agevole. Io ripeto, divisione 1 assolutamente non toccarla, magari neanche la 2, magari neppure la 3, ma dalla 4 in poi dà la possibilità di utilizzare anche gli eventi per avere qualche punto. Oppure, ragazzi, queste sono due idee, uno di un ragazzo che ha commentato con i premi settimanali, io ho proposto questa di, come dire, integrare gli eventi e mettere premi. ci sarebbero tante, 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 tante altre cose per creare un meccanismo più invitante, più intrigante. Poi, io al campionato ci gioco lo stesso. A volte faccio una partita al giorno, a volte ci gioco due ore al giorno a seconda del periodo dell'anno di disponibilità di tempo, anche di voglia che ho di giocare o di non giocare ad altro, di fare altro nella vita. Insomma, io rimango, come dire, appassionato al campionato, ma comprendo benissimo chi se ne allontana, perché è troppo uguale a se stesso dopo più di un anno. Dopo più di un anno non è cambiato nulla. Quindi, ripeto, vero che manca la Master League, vero che manca la Coppa, ma non crediate che il Dream Team sia questo paradiso sulla terra, perché anche il campionato ha i suoi grandi e bei limiti. mi auguro vivamente che Konami anche da questo punto di vista intervenga, perché alla lunga, indubbiamente, alla lunga si perderà sempre più utenti del campionato, magari non in maniera esponenziale, ma magari solamente le persone ci giocano meno. Sto vedendo in questo periodo infatti che anche tante persone che incontro mannaggia a loro divisione 1 che adesso stanno in divisione 3 e in divisione 4 quasi alla fine della fase, vuol dire che sono giocatori forti, mannaggia a loro, e che però stanno giocando poco perché è sempre la stessa solfa sostanzialmente e mannaggia a loro me ne incontro io che sto in divisione 3 ma sono sostanzialmente divisione 1 che momentaneamente sono in divisione 3 e in divisione 4 mannaggia a loro, ma ovviamente buonariamente lo dico, però è così, però è così, e quindi ragazzi speriamo bene, speriamo che questa nuova stagione che mi auguro ripeto sia la stagione 5 e non come dice Galvani stagione 4 parte 2 ci porti delle novità, non credo che in questo momento ci siano con il campionato perché bisogna essere realisti, io spero davvero che il football 2024 sia davvero l'anno della ricostruzione completa, ovvero Master League, Coop e anche il Dream Team venga rivisto perché dopo un anno senza sostanziali novità nel campionato e neanche negli eventi ci sono state variazioni sul tema sostanzialmente non novità assolute sarebbe davvero il caso di cambiare un po' ritmo, cambiare un po' ritmo io il ritmo che mi aspettavo era quello del primo mese del Dream Team di aprile 2022 il primo mese il primo mese e mezzo i primi due mesi sono stati davvero esaltanti e vi assicuro che anche a livello di views del canale sono stati periodi migliori di sempre del canale YouTube di Italia Talk Games che sta su da un bel po' è stato il momento migliore di sempre quei primi due mesi perché? perché c'erano tante novità c'erano tutto il meccanismo c'erano sempre ulteriori aggiornamenti e dopo wow calo calo sia di interesse di football sia di views generali invece iscritti continuano a salire per fortuna siamo a un iscritto a 14.500 magari se tu che stai sentendo questo video ancora non sei iscritto diventa proprio tu il numero 14.500 va bene ragazzi per il momento è tutto altre partite del campionato oggi alle 14 alle 20 domani mattina facciamo il giro gratis di quel pool sui generis di giocatori della settimana riciclati e vi auguro un buon fine settimana per il momento e grazie per l'attenzione ciao